sono edo bacci di milano in fm 70s 80s e queste sono le voci della golden age delle radio private in questa puntata sono in collegamento con un primatore della milano in fm 70s 80s pensate che il 16 febbraio 1976 giorno in cui in un appartamento del quartiere lorenteggio a milano radio studio 105 iniziava le trasmissioni lui c'era e ha anche parlato a quel microfono do il benvenuto a sergio sessa grazie edo grazie grazie ciao sergio grazie soprattutto per questo termine che mi sembra addirittura un po eccessivamente altisonante prima attore diciamo sì in senso cronologico sì è vero è assolutamente vero quindi perché non dirlo e tra l'altro è un piacere risentirti perché tu sei oggettivamente scomparso dai radar da un sacco di tempo quindi sono sicuro che parecchia gente riscolterà la tua voce con piacere sì sopravvissuti quelli qualche ultra settantenne qualche ultra ottantenne dotato di buona memoria che stanno venendo a prendere in questo momento sento sento dietro l'hai chiamata proprio l'hai giusto chiamata senti direi di iniziare questa chiacchierata sulla golden age delle radio private facendo insieme un salto indietro nel tempo al marzo 1975 quando nascono le radio libere come si diceva in quel periodo la prima sappiamo benissimo che è stata radio milano international e poi nel corso del 75 seguiranno altre come montestella minano centrale canale 96 free radio eccetera ecco torniamo indietro proprio in quel momento storico tu come hai vissuto quei primissimi mesi delle radio private cosa ricordi esattamente di quel momento ricordo che ho scoperto questa realtà piuttosto per caso perché scanalando con la mia radiolina transistor radiolina anche radiolona perché mi piaceva ascoltare la musica alla radio scanalando per sintonizzare le varie radio che allora trasmettevano musica musica che in italia non si trovava ad esempio radio bossemburgo radio monte carlo ecco a un certo punto salta fuori qualche cos'altro che è questa appunto radio milano international e sai per un appassionato di musica ma più che appassionato insomma ascoltatore abituale una volta che trovi quella frequenza poi è difficile staccarti staccarti ogni sopra giorno dopo giorno e quindi andiamo qualche mese dopo arriviamo all'inizio del 1976 tu hai una compagnia di amici che frequenti da universitario e a un certo punto qualcuno dice ma perché non proviamo a farlo anche noi sì è andata praticamente così alcuni amici che frequentavo pressoché quotidianamente mi dicono ma sergio noi avremmo in mente di metter giù una radio privata va bene tu hai un po di tempo perché dobbiamo riempire 24 ore al giorno di di trasmissione a me la musica piaceva un pochininino me ne intendevo e tutto quanto e allora ho detto loro e come no certo dopo due settimane eravamo in trasmissione e quindi il 16 febbraio 1976 viene preso praticamente un in affitto un appartamento inviettito vignoli 46 e cominciano le trasmissioni di radio studio 105 allora dicevamo appunto di questi tuoi amici ricordiamolo allora chi sono stati i soci originali di radio studio 105 i veri fondatori furono i fratelli ponzone vittorio e giampaolo che ebbero anche se il ricordo non mi tradisce l'idea di proprio le originarie ok quindi lo spunto è venuto da loro spunto è venuto proprio da loro cesare somaini marco rocca edoardo azzan ok quindi arriviamo poi al nome grosso diciamo edoardo azzan che ricordiamo è fratello di alberto azzan che all'epoca era proprietario dell'audiola che è stata un importante marchio di hi fi car e quindi cominciate in con questo gruppo con questo nucleo storico e tu appunto il primo giorno il 16 febbraio 1976 insieme a loro parli anche tu quindi sei proprio uno che nelle prime ore di radio studio 105 ha parlato col microfono quel giorno c'ero perché appunto perché questi amici qua mi avevano invitato e diciamo che se le prime se le prime parole trasmesse via etere sono state pronunciate nel pomeriggio in mezzo a una serie di scariche io sono arrivato lì dopo cena e ho passato la prima notte con gli amici lì dentro già avendo un turno in cui eseguire quella che oddio adesso chiamare una trasmissione radio mi sembra che faccia un po' venire da ridere però diciamo che era un turno nel quale avevo il compito anch'io di mettere di mettere su le cassette allora le cassette non erano dischi perché ecco diciamo che come radio in quel primissimo in quei primissimi giorni eravamo un po' scarsini attrezzature assolutamente di fortuna intanto zero mixer no ecco si comincia con cosa come zero mixer avevamo un una specie di mangia cassette neanche il piatto per far girare sopra i vini cioè niente mixer e niente gira dischi precisamente avevamo un mangia cassette con due posti e un microfono ecco è fantastica comunque questa immagine di radio studio 105 che è considerata ed è giustamente considerata uno delle più importanti radio di milano che ha iniziato proprio così alla come un'armata brancaleone in poche parole la vera gavetta ti ricordi esattamente chi ha parlato proprio per primo quel giorno era stato giampaolo ponzone e quindi radio studio 105 ovviamente nasce in perché è la frequenza che all'epoca era appunto i 105 e qualcosa chiaramente da lì nasce il nome esattamente comunque poi appunto i locali sono piccolissimi e a quel punto decidete di andare nello stesso palazzo però giù nello scantinato però c'è un problema questo succede più o meno intorno all'estate del 76 quindi pochissimi mesi dopo però dicevo c'è un problema perché quando piove forte a milano e s'allaga tutto e quindi a vi immagino con gli stivaloni verdi da pescatore a trasmettere cercando di non di non bagnarvi la prima volta che è successo e che è successo è stata un po' una tragedia apriamo la mattina la radio alla gara camminare nell'acqua il primo piano dei metti 25 centimetri di acqua limacciosa anche torbida quindi il piano più basso delle scaffalature che reggevano i nostri vinili era immerso nell'acqua e alcuni vinili galleggiavano tristemente mamma mia questo non ci ha scoraggiato naturalmente però è stato è stata una cosa un po' seccante diciamo così tu facevi se non sbaglio un programma che si chiamava cappuccino e brioche cappuccio e brioche cappuccio e brioche ecco sì sì la mattina la mattina quindi tutti sei posizionato subito nella nell'apertura dei programmi sì certo un contenitore nel quale si metteva dentro un po di tutto beh insomma praticamente non si poteva rimanere lì e quindi a questo punto succede una cosa molto importante che subentra a tutti gli effetti la figura di alberto azzan che penso anche rilevi ma confermami tu le quote di tutti i soci che abbiamo già nominato prima e decide e finanzia anche lo spostamento nei locali ben più prestigiosi di del corso 4 a in pieno centro a milano tra piazza del duomo e san babi la corso vittoria manuele insomma veramente in pieno centro e quindi fate un po il salto di qualità sì è così in effetti questo questo è stato un momento abbastanza importante nella crescita di radio studio 105 ora radio 105 perché si era verificato una specie di esplosione a modi big bang in in pochissimo tempo dopo i primi già dopo le prime settimane di trasmissioni siamo diventati bravi e i nostri ascolti sono veramente aumentati eravamo un po degli outsider perché non è che siamo arrivati secondi terzi o quarti c'erano già svariate private che trasmettevano però noi abbiamo accelerato fortissimo tanto da fare direttamente concorrenza come qualità anche proprio di trasmissioni e tutto a una milano international per esempio che era il punto di riferimento allora